ciao sicuramente nel corso di innumerevoli notti hai sognato forse sognato anche facendo dei riposini facendo un'ora di riposo durante la giornata non sono certo che tutti i sogni ci insegnino qualcosa però alcuni sogni ci insegnano come fare a capire che alcuni sogni sono degli insegnamenti perché ci risolvono delle situazioni per me esperienza personale ma anche per racconto di amici ci sono stati dei casi di persone che cercavano un titolo per un film per un libro per una canzone questo campo altri che cercavano l'ispirazione per sposarsi oppure cercavano la volontà per separarsi da una relazione che non era quella che si aspettava allora in sogno ci sono state delle visioni degli insegnamenti degli stimoli che da sveglio hanno illuminato dalle persone avevo letto di uno che conoscevo tra l'altro che esplorava in india dei villaggi così e non riuscirono a trovare le rovine di un antico villaggio che si trovava tra due villaggi che erano ancora conosciuti ha fatto un sogno dove lui camminava lì si è ricordato il punto è andato la è oramai coperta dalla vegetazione cioè dagli alberi dalle foglie dall'erba c'era quindi sicuramente si è bevuto un bicchiere d'acqua perché è una zona calda il bengala fa caldo e hanno ritrovato quel posto ci sono persone che in casa non trovavano più qualcosa e in sogno hanno sono riusciti a ritrovare fortunatamente appena si sono svegliati sono rilassati e sono andati a cercare hanno trovato quindi alcuni sogni ci insegnano potrebbero essere tutti i sogni che ci insegnano però bisogna diventare esperti bisogna capire occhi aperti uguale vita occhi chiusi vita qui vediamo con due occhi che sono facilmente ingannati dai colori i sensi sono ingannati dai sapori dagli odori tutta la pubblicità se guardate la pubblicità in televisione in pochi secondi ti vendono qualcosa non è che ti fanno una conferenza sui biscotti no prendono persone di varie età di varie età in famiglia o fuori dalla famiglia in velocità ti vendono il biscotto quindi noi abbiamo il potere anche occhi chiusi di porci delle domande di porci degli obiettivi perché il sogno è vita quindi possiamo utilizzare il potere di questo occhio che in realtà il primo qui bisogna mettere un uno uno due tre invece è uno due tre cioè questo il terzo occhio è il primo occhio che vede al buio e vede l'invisibile e molte risposte per vivere meglio nel visibile le possiamo trovare nell'invisibile perché noi siamo esseri esseri viventi eterni e multidimensionale quindi quello che ti dico è se vuoi leggere i miei libri parlo di questi argomenti ritrova risveglia utilizza la tua multidimensionalità una parola che non è di uso quotidiano ma tu sei un essere multidimensionale per dormire se io scrivo dei libri e faccio dei video qui se mi scrivi ti mando la lista dei miei libri ricavato va in beneficenza per la mia onlus programmi umanitari ma tante volte io vado a dormire e penso di fare dei video e qui in quello stato dormiveglia o anche dormendo mi viene in mente sia il titolo sia cosa dire quindi quando mi sveglio con calma mi scrivo il titolo del video perché perché poi meditando sul titolo è un po come internet no mettendo quella parola viene fuori il file io mettendo per scritto ciò del foglietto no scrivo metti che ho idea di quattro video quattro giorni di video no però quando ci penso quando medito quando dormo quando sto per dormire mi sveglio la mattina mi sveglio c'ho delle idee scrivo dei libri io tanti libri li ho scritti prima nella mente anzi tutti quindi cosa faccio non è che io scrivo libri trascrivo quello che ho in mente tramite il computer infatti io sono affascinato dal computer sono affascinato da le telecamere perché mi facilitano il mio desiderio che è la condivisione creato una onlus appuntico se tu mi scrivi ti mando i dati dalla onlus siamo a libera condivisione questi video sono libera condivisione e andrò avanti finché c'ho la la forza e la voglia la voglia c'è la forza c'è grazie per chi mi scrive per chi mi manda amore buona energia io mando a te amore buona energia e ti dico hai un grande potere quello di usare i sogni per imparare a vivere meglio quando riapri gli occhi ciao